Sono 203 le medie aziende società di capitali italiane premiate all'Università Luis Guido Carli con l'alta onoreficenza di bilancio in occasione della terza edizione nazionale del premio Industria Felix l'Italia che compete. Tra i parametri valutati, secondo uno studio a cura di Cerver, delle performance gestionali, l'affidabilità finanziaria e la sostenibilità. Una giornata che è stata anche l'occasione per fare il punto sulle sfide che la media azienda si trova a dover affrontare in uno scenario sempre più complicato, prima per la pandemia e poi per le conseguenze del conflitto russo-ucraino, ma che non deve far perdere di vista la necessità di spingere su un profilo di sostenibilità che diventerà sempre più necessario anche per presentarsi sul mercato, come ha evidenziato Alessandro Fusellato, amministratore delegato di Grant Horton Consultants, società del gruppo Grant Horton, partner del premio Industria Felix, esperto con oltre 20 anni nel settore dei servizi di consulenza aziendale. Il primo suggerimento che darei alle aziende, a una media impresa, anche a una media impresa come queste premiate che rappresentano sicuramente un'eccellenza del territorio e dell'Italia nel suo complesso, è quello di crearsi un'identità di sostenibilità propria e quindi investire tempo e risorse e anche in formazione per la creazione di un loro primo report di sostenibilità. Il momento è il momento giusto perché la media impresa italiana, ma in generale quella europea, arriverà all'obbligatorietà del reporting dal 1 gennaio 2024. Quindi hanno questo periodo di tempo di transizione per fare proprio questa materia che comunque è complessa, non solo per il contesto macroeconomico, ma proprio perché comunque quelli che sono i requisiti del regolatore si stanno via via andando ad approfondire, e quindi i requirements di reporting sono sempre più articolati, quindi serve questo periodo di preparazione per essere effettivamente pronti e per consentire veramente, ripeto, la creazione di questa identità propria di sostenibilità, essere pronti poi a essere osservati e analizzati dagli analisti, dalle istituzioni finanziarie e dai fondi di investimento che stanno comunque considerando gli aspetti di sostenibilità sempre più importanti. La giornata è stata anche l'occasione per consigli pratici alle aziende. Primo tra tutti ha ricordato Sergio Montedoro, partner Grant Horton, quello legato alla imminente scadenza degli aiuti di Stato. In questo periodo pandemico, purtroppo lo siamo ancora, lo Stato, l'Unione Europea in primis, lo Stato a seguire, hanno fornito a cascata, a pioggia, una serie di aiuti. Questi aiuti ora vanno in qualche modo riassunti e dichiarati all'Unione Europea per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. Quindi un attempimento molto importante perché è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e quindi implica ovviamente anche aspetti di veridicità della stessa. Per cui ci troviamo a dover valutare con molta attenzione, l'imprenditore si trova a dover valutare con molta attenzione questa dichiarazione che purtroppo richiede ancora dei chiarimenti, degli aspetti che devono ancora essere chiariti. Purtroppo la scadenza è imminentissima, però con l'aiuto dei consulenti del mondo professionale io credo che si possa fare un buon lavoro.